video 109 oggi si parla di peugeot 406 coupé v6 3000 by pininfarina direi che sia sufficiente sentire il nome del designer per avere la certezza di avere di fronte agli occhi una macchina unica e sicuramente elegante se poi pensiamo che questo progetto codice progetto di 85 ha ormai quasi 30 anni perché i primi bozzetti sono del 92 viene da chiedersi come facesse pininfarina ad essere così lungimirante perché possiamo guardarla di fianco da davanti dal posteriore ma anche da sopra senza entrare nello specifico degli interni e vediamo una linea senza tempo pensiamo tra l'altro che nello stesso periodo negli stabilimenti pininfarina si costruivano vetture di un certo calibro è il periodo infatti in cui pininfarina assembla le fiat coupé e soprattutto è il periodo in cui pininfarina ha disegnato e progettato la 456 gt è insomma un periodo quello dell'inizio degli anni 90 molto molto florido per quel che concerne i design delle coupé per coupé si intenderebbe una vettura derivata dalla berlina in realtà come per esempio per la fiat coupé non esiste una versione berlina per cui non si potrebbe chiamare coupé ma questo se ci limitiamo a quello che è la definizione ma considerato che ormai la consuetudine di chiamare coupé prevede di chiamare coupé tutte le vetture sportive e magari due porte allora cadiamo in pieno nella definizione stessa quel periodo storico è infatti ricco di coupé troviamo per esempio la nissan 300 zx l'audi s2 coupé la volkswagen corrado l'opel calibra con un bel cx 026 i fiat coupé di bengol che dicevamo prima l'alfa 916 la rover 200 turbo l'onda prelude quarta serie la bellissima toyota celica st 205 e l'onda integra non dimentichiamo inoltre la mitsubishi eclipse e poi pensiamo alla qualità tedesca le mercedes clk per esempio oppure le bmw e 36 prima ed è 46 dopo bmw fa un salto di livello in termini qualitativi che sinceramente la pongono al top insomma peggio e pin in farina sono chiamati a creare un coupé superiore a quello che è presente sul mercato quando nel 97 quindi viene messa in vendita la qualità è superiore a quasi tutti i marchi concorrenti come coupé dovrebbe quindi essere una vettura di nicchia molto molto bella raffinata in questo caso creata direttamente negli stabilimenti pin in farina ma poi tanto di nicchia non lo rimane perché i numeri di produzione dal 97 al 2004 riporteranno un totale di 107 mila 633 esemplari quindi coupé ma neanche poi tanto così di nicchia del resto si era pensato non ad un coupé scarno piccolo e poco conveniente per una famiglia ma si era pensato ad un coupé comodo per quattro persone tant'è che anche nei posti posteriori l'abitabilità è eccellente lunghissima quindi la lista di questi optional che successivamente sono diventati di serie oltre ai ovvi abs sp per la sicurezza della vettura ci sono altri strumenti che oggi giorno sono abbastanza semplici da trovare sulle vetture di tutti i giorni ma al tempo no per esempio accensione automatica dei fari accensione automatica delle quattro frecce in caso di frenate d'emergenza retrovisore fotocromatico sedili riscaldati specchietti riscaldati sensore di pioggia il termometro della temperatura esterna il navigatore gps che sulle prime versioni però non c'era gli airbag anche laterali di serie dal 99 e poi come comfort interno gli interni in pelle incluso ovviamente volante anche bicolore per alcune serie speciali è il pomello del cambio ma soprattutto un impianto jbl da top di gamma quindi un impianto radio con caricatore multi cd dei massimi livelli da aggiungere ancora due cose la prima è l'impianto frenante visto che abbiamo parlato dell'abs dove a supportare lo stop di questa vettura ci sono delle pinze brembo ovviamente a 4 pistoncini e in ultimo ma forse scordo ancora qualche cosa è l'impianto elettrico che negli anni si è evoluto per diventare un impianto totalmente multiplexer ora veniamo alle motorizzazioni si abbandona il prv il tanto amato motore peggiore no volvo utilizzato da queste tre case da inizio anni 70 e anche da alpine delorean venturi per passare ad un sei cilindri totalmente nuovo progettato solo da peugeot e renault questo è il motore che equipaggia la top di gamma v6 24 valvole e ha nella prima serie 194 cavalli successivamente passa a 207 cavalli è lo stesso motore che verrà poi montato anche sulla renault avanti le motorizzazioni a benzina prevedono anche un 2000 di 135 cavalli prima e successivamente 137 e in ultimo il 2 e 2 da 158 cavalli è presente anche una motorizzazione diesel con il 2 2 hdi che tanto ha dato alle vetture diesel nel periodo di fine anni 90 e anni 2000 era un'unità con 133 cavalli se si dovesse scegliere quale motorizzazione acquistare al di là delle norme odierne legate all'inquinamento sicuramente la 3000 v6 che vedete anche in queste immagini è il top perché è il top io ho avuto la fortuna di averla per circa due anni e ad ogni accelerazione è sufficiente sentire il sound dei 6 cilindri per rendersi conto di quello che è quel motore soprattutto su questa vettura di gran classe è proprio il completamento di una opera d'arte realizzata dal maestro pin in farina con il supporto ovviamente di peugeot quindi se devo consigliarvi una vettura da acquistare sicuramente vi direi v6 ci sarebbe poi da decidere l'anno di costruzione la serie di 8 di 9 per esempio a me piace meno ma è soggettivo la versione successiva al 2002 che ha un frontale con una bocca di aereazione sul paraute anteriore che secondo me le toglie un po di eleganza ma è appunto un parere soggettivo bene questa è la vettura che vi presento in questo servizio io dopo due anni che l'ho ottenuta l'ho usata ad un grandissimo appassionato del marchio peugeot che felicemente ha portato a casa una bellissima leonessa bene se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale auto epoca nord est mettete se volete essere aggiornati su ogni nuovo video pubblicato anche il simbolo della campanellina e se vi è veramente piaciuto anche un bel mi piace ciao e grazie a tutti